Ricordo sempre che l'Occidente è formato da 800 milioni di persone. Gli altri 7 miliardi e 2, di tutti i casini che accadono qua, non gliene può fregare di meno. Cioè, hanno proprio un modo diverso di vedere la vita. E sono loro che salveranno il mondo poi, alla fine, da questa tirannia di elite pazzi, capricciosi, isterici, pieni di soldi. Cioè, l'errore è stato fargli avere tutta questa possibilità economica. Questo è stato il grande errore dell'umanità occidentale. Ma qualcuno, già dieci anni fa, esattamente il 10 aprile del 2014, rilasciando un'intervista all'Accademia Pareto, l'aveva già detto. E non è che è l'ultimo arrivato, è uno che in quegli ambienti ci ha proprio vissuto, anzi, ci ha proprio sguazzato. E poi però dice queste cose, vorrei poterlo rientervistare oggi, anzi, c'è già l'invito per Massimo D'Alema, che, ascoltiamo cosa diceva proprio su questo argomento, il 10 marzo del 2014, sulla sovranità e sul fatto che noi, già dieci anni fa, avremmo dovuto riconquistarla per non cadere in delle trappole mortali. Prego. No, noi siamo rappresentati in un Parlamento europeo, ma di fatto il Parlamento europeo non esercita il suo potere sulla Commissione, perché c'è una complicata architettura, per cui la Commissione è un'emanazione dei governi europei, e quindi è dominata dal punto di vista dei governi più forti. Ora, insomma, già non è simpatico dover accettare dei sacrifici, ma dei sacrifici che appaiono imposti dal governo di un altro paese, sinceramente non sono accettabili. Eh già. No. Quindi, proprio la farraginosità, direi, del meccanismo europeo, fa sì che di fatto questi poteri sono esercitati da una tecnocrazia non trasparente. La sovranità noi in molti campi l'avremmo già perduta. E il problema è riconquistarla. Perché noi, diciamo, se non raggiungiamo il famoso 3%, l'Europa ci punisce e ci multa. Quindi, se vogliamo ridurre le tasse, il ministro dell'economia italiana deve passare due giorni a Bruxelles per chiedere l'autorizzazione. Hai d'accordo con il ministro Mogherini che ha affermato recentemente che noi abbiamo due capitali, Roma e Bruxelles? Ma è così. Noi abbiamo due capitali, diciamo. E direi che il peso di Bruxelles nella vita delle persone è un peso crescente. Quindi, il problema non è cedere sovranità, è riconquistarla. Cioè, nel senso di sottoporre il potere europeo, che a mio giudizio è inevitabile. Nel mondo globale, inutile che noi ci illudiamo che esista il concetto di sovranità novecentesco. È un'illusione senza, priva di qualsiasi fondamento. Sa dove io mi sono reso conto, diciamo, di queste illusioni? Me ne sono accorto, non in Europa, me ne sono accorto molti anni fa, è stato il 96, quando io fu invitato negli Stati Uniti, ero segretario del maggior partito di governo, c'era il governo Prodi, e andai a visitare la sala operativa di Mary Lynch. E lì mi portarono al Desk Italia, e c'erano tre ragazzi, due di colore, ma ragazzi proprio, che compravano o vendevano bot. Quindi decidevano lo spread dell'Italia in buona parte. Sì, decidevano se noi avremmo avuto i soldi per fare le scuole, gli ospedali. Avevano la Reuters, se usciva una dichiarazione storta di qualche uomo politico, vendevano. Se no compravano. Avevano anche una grande libertà di decisione, diciamo. Ho avuto come l'impressione che quei tre contassero più del Parlamento. Ragazzi, che ne pensate? Intanto sentiamo Alberto e Vanni, che ne pensate? Cioè, voglio dire, D'Alema, dieci anni fa, ha riassunto tutto quello che sta accadendo. Cioè, noi non siamo padroni di nulla. Tre ragazzetti messi là, che decidono, se qualcuno dice una cosa storta... Anche di colore, poi ho sentito. Vabbè, questo è una nota di colore. Prego, Alberto, prima. Prego. Beh, allora, D'Alema è un bel personaggio, eh. Lui si è molto adeguato poi a tutti i sistemi, però, devo dire, è di una lucidità impressionante. Lucidità impressionante. Un uomo veramente aveva una marcia in più nel decodificare i sistemi di potere nel quale lui poi si è infilato abbondantemente. Però, vuol dire, aveva capito tutto e purtroppo è così. Anch'io, quando andavo spesso a parlare con i capi delle multinazionali dove lavoravo, avevo capito che noi eravamo proprio l'ultimo periferia dell'impero ed eravamo agganciati a decisioni che ci trascendono totalmente. Dall'Europa, da questi burocrati, dalla Commissione europea, neanche dai parlamentari, arriva l'obbligo di passare a un mercato privato per l'energia, per un bene essenziale del quale non possiamo fare a meno, e quindi il mercato di maggior tutela cessa. Cioè, uno Stato che invece che incrementare le maggiori tutele per i cittadini le fanno finire perché prendono ordini. Ma questo D'Alema già l'aveva detto, no? Ma che cosa ha fatto? Vanni, a te il commento su questa cosa. Ora, intanto, bisognerebbe comunque ricordare che D'Alema, che stava così bene descrivendo quello che adesso era abbastanza evidente agli occhi di tutti, soprattutto ricordiamoci quelli che sono stati i precedenti passaggi dei governi berlusconi, che cosa è successo. Noi da sempre, fondamentalmente, se poco a poco non andiamo nella direzione desiderata, veniamo fondamentalmente presi abbastonate e ricondotti su quella che loro credono essere la retta via. Retta via che poi si esprime attraverso questa partnership pubblico-privata, che suona veramente bene e che in realtà ha un significato completamente diverso. Cioè prendiamo i soldi del pubblico e li diamo a pochi privati. In questa sorta di trasformazione, di ritorno a un medioevo effettivo e reale, nel quale la maggior parte della massa, della gleba, oramai deve fondamentalmente non aver nulla e in qualche maniera, tra l'altro, essere felice. Però vorrei ricordare che lui, appunto, come ha detto nel video stesso, lui faceva parte di quel governo capitanato da Prodi che ci ha portato in questo tipo di meccanismo. Con tutte le menzogne, non so se vi ricordate, lavoreremo un giorno di meno, prenderemo gli stessi soldi. È anche facile ricordare che all'epoca l'Italia era la quarta potenza economica del mondo e tramite l'entrata in Europa siamo diventati, oramai non so più, dodicesime, tredicesime, ci stanno passando chiunque. Questo perché l'entrata in Europa fondamentalmente a noi ci ha tagliato le gambe, perché prima eravamo una potenza economica in grado di portare avanti industrie, soprattutto a carattere di tipo familiare, un artigianato spettacolare e la capacità di produrre mezzi di largo consumo a dei costi particolarmente vantaggiosi. Eravamo un problema, in realtà, per la Francia e per la Germania, un problema che gran parte è stato risolto dall'entrata in Europa. È vero che poi il Parlamento europeo, oramai, ha una funzione quasi rappresentativa, perché l'abbiamo visto, tra l'altro, in questi tre anni. Non è che è stato il Parlamento europeo in qualche maniera prendere, per esempio, i contratti sui vaccini del Covid o altre cose. Se ne è occupata la Commissione tramite sms. Oramai siamo arrivati a livello tale che è chiaro che si è formata una sorta di oligarchia che non ha niente a che vedere, tra l'altro, con i popoli che invece leggono il Parlamento europeo, che in realtà porta l'Europa e tutti i disgraziati che ci stanno dentro nella direzione che è stata scelta da tanto tempo, che è quella appunto di rendere noi sempre più poveri e un numero estremamente piccolo di persone, estremamente ricche, così che il meccanismo, tra l'altro, sia autoalimenti e sia impossibile da scardinare, perché comunque senza l'argento diventa difficile in realtà riuscire a fare qualunque forma di cambiamento. Che ti devo dire? è la rappresentazione del mondo in cui viviamo. Finché la gente non se ne accorge, non si sveglia in qualche maniera, ma dubito che questo arriverà dalla politica convenzionale.